Buongiorno e ben ritrovati con noi in questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo subito con la notizia del giorno. Un sub di 67 anni da ieri è disperso nelle acque di Calampiso. Le ricerche finora non hanno dato purtroppo alcun esito. Vediamo a servizio. Momenti di angoscia. Macari per un sub disperso in mare lo cercano da ieri. Dell'uomo di 67 anni, milanese d'origine ma residente ormai da anni nella frazione sanvitese e nemmeno l'ombra. La guardia costiera ha rinvenuto il gommone con il quale era uscito per un'immersione legata ad una cima alle bombole d'ossigeno. Il natante era a largo di Calampiso dove l'uomo si sarebbe tuffato in un fondale che può raggiungere fino ai 130 metri di profondità. L'allarme è scattato ieri alle 14 quando il gestore dei pontili di San Vitolo Capo dove il 67enne ormeggiava il gommone ha contattato la sala operativa della guardia costiera. Il sub infatti non aveva fatto rientro per l'ora di pranzo come era solito fare. nonostante le ricerche serrate proseguite anche per tutta la notte del disperso nessuna traccia. Comandante ricerche serrate del sub però almeno per il momento nessuna traccia? Purtroppo no, purtroppo non abbiamo ancora rinvenuto nessuna traccia del sub. L'allarme è scattato ieri alle 14 quando il gestore dei pontili a San Vito dove di solito questo sub rientrava a un determinato orario appunto passato questo orario si è insospettito ci ha chiamati. Abbiamo mandato subito il nostro battello veloce da San Vito che ha cominciato le ricerche. che ha rinvenuto il gommone di appoggio del sub però del sub non c'è stata traccia e per cui le ricerche si sono estese. Abbiamo mandato la nostra motovedetta SAR da qui da Trapani più i sommozzatori dei vigili del fuoco che ci stanno dando una grossa mano hanno fatto delle immersioni e ancora l'elicottero partito da Palermo dei vigili del fuoco con i loro rescue swimmer che anche hanno fatto delle immersioni. Purtroppo fino a ieri all'imbrunire non c'è stata traccia nonostante l'oscurità abbiamo richiesto anche l'intervento dell'aeronautica militare con l'82esimo stormo di Birgi che ha mandato un elicottero che con le loro strumentazioni riesce a individuare le fonti di calore a mare che ha fatto varie spazzate durante la notte e purtroppo non abbiamo ancora avuto nessun esito di queste ricerche che comunque attualmente sono ancora in corso ci sta sempre la nostra motovedetta SAR due gommoni veloci nostri e anche i gommoni dei vigili del fuoco e stiamo reperendo un ROV sarebbe il Remote Operative Vehicle che è in grado di un robottino filo guidato che è in grado di scansionare il fondale perché stiamo parlando di un fondale che va dai 50 ai 70 poi può discendere una scarpata fino a 130 metri stiamo parlando della Calampiso quindi nella riserva dello Zingaro gli sforzi li stiamo facendo purtroppo il passare del tempo non ci facilita da questo punto di vista ma comunque gli sforzi continueranno fin quando speriamo di avere un esito positivo ci vediamo dopo con tutte le altre nostre notizie l'acqua dei pozzi non si può usare questa è la conclusione delle verifiche fatte dall'ASP di Trapani i funzionari lo hanno comunicato durante una riunione in prefettura fiamme e paura un incendio divampato ieri pomeriggio nella franzione ricina di Ballata ha minacciato di aggredire le abitazioni Pug di Trapani intervengono gli architetti avanzate alcune osservazioni e suggerimenti sul piano urbanistico generale in fase di formazione palcoscenico d'estate ad Erice continuano le iniziative organizzate dal comune in collaborazione con le associazioni del territorio vigilia di coppa sabato sera l'esordio ufficiale di Messina e Trapani nella nuova stagione rispettivamente contro Crotone e Cavesa un nuovo capitolo per il museo di Famigliana riaperto dopo sette anni nell'ex stabilamento Florio la sala della battaglia delle Egadi di cui parleremo nella pagina della propria ben ritrovati con noi in studio l'abbiamo detto nei titoli l'acqua dei pozzi privati non può essere usata per il consumo umano a renderlo noto durante un incontro in prefettura l'ASP di Trapani Chiara Conticello Una soluzione che potrebbe garantire la continuità del servizio idrico in città era stata definita così l'ordinanza urgente firmata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida di inizio luglio con il documento si autorizzavano i funzionali dell'ASP di Trapani ad eseguire verifiche sui pozzi privati la decisione del sindaco Tranchida nasceva ovviamente dalla dichiarazione dello stato di severità idrica alta in Sicilia requisire pozzi privati dunque era stata definita una misura urgente e necessaria che avrebbe potuto dare un po' di sollievo ai cittadini avrebbe potuto appunto perché sembrerebbe che l'ASP e il genio civile abbiano comunicato che l'acqua dei pozzi privati non può essere utilizzata per il consumo umano o per scopi igienico-sanitari i funzionari lo hanno specificato durante una riunione che si è tenuta in prefettura a Trapani al centro dell'incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei comuni di Alcamo, Castellammare e Trapani e poi di Siciliacque, Ati, Trapani e Protezione Civile chiaramente c'era la crisi idrica in provincia nonostante questo il comune di Trapani in questi giorni sta reagendo bene grazie ai lavori fatti a Bresciana dove adesso ci sono 16 pozzi in funzione su 18 grazie a degli impianti più efficienti anche Pozzo Madonna ha raddoppiato le sue quantità di acqua va da sé che anche grazie a queste operazioni il comune di Trapani al momento è autosufficiente la turnazione in queste ultime due settimane è stata infatti irregolare da annoverare poi che proprio la città di Trapani è al momento virtuosa per quanto riguarda la dispersione dell'acqua potabile secondo il rapporto del centro studio di Mestre infatti in Sicilia le reti idriche perdono il 51,6% dell'acqua potabile a Trapani invece si perde solo il 17,2% risultando quindi virtuosa rispetto ad altri comuni della regione e ieri pomeriggio grande paura nella frazione ricina di Ballata per un incendio che ha minacciato le abitazioni vediamo le immagini ci è voluto una vera e propria task force per domare l'incendio divampato ieri pomeriggio nella frazione di Ballata d'Erice minacciando le abitazioni le fiamme che si sono sviluppate in un canalone spinte dal vento hanno ridotto in cenere diversi ettari di macchia mediterranea e alberi in azione vigili del fuoco forestale volontari della protezione civile componenti dell'associazione humanitas angeli del soccorso e una squadra comunale il ruolo è stato spento prima che potesse lambire le abitazioni sono stati momenti di tensione sul posto un autobot del comune di Erice sento di dover ringraziare di cuore al nome della città di Erice la task force che ieri pomeriggio ha evitato che questo incendio potesse estendersi e bruciare ancora commenta il sindaco Daniela Toscano il tempestivo intervento ha infatti consentito di limitare i danni e ha messo in luce quanto sia fondamentale agire per tempo e collaborare per il bene di tutti grazie dunque ai vigili del fuoco, al corpo forestale e ai nostri volontari coordinati dal responsabile della protezione civile e comunale Giuseppe Tilotta Cambiamo argomento, un'altra aggressione purtroppo nelle carceri di Trapani vittima un agente in servizio a Pietro Cerulli che è finito in ospedale Un nuovo episodio di violenza alle carceri di Trapani vittima un agente di polizia penitenziaria in servizio al Pietro Cerulli che è stato aggredito da un detenuto l'operatore ha riportato contusioni e la frattura della falange di un dito a scatenare la furia del recluso l'invito a far rientro in cella l'aggressione si è verificata nel reparto denominato Mediterraneo soccorso dai colleghi l'agente Malmenato è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Andone Abate sulla vicenda è intervenuto il sindacalista Maurizio Mezzatesta gli eventi critici e le aggressioni e danni del personale di polizia penitenziaria ha sottolineato sono all'ordine del giorno e si sommano con le critiche e condizioni lavorative più volte segnalate dalla nostra organizzazione sindacale naturalmente ha concluso tutta la nostra solidarietà all'agente di polizia penitenziaria coinvolto con l'augurio di pronta guarigione già in passato il Pietro Cerulli era stato teatro di aggressioni ora un nuovo episodio che pone l'accento sulle condizioni di sicurezza dell'istituto di reclusione adesso parliamo del maltempo la zona di Palagonia a Catania è stata colpita ieri da un ubifraggio diversi disagi causati in città vediamo il servizio le zone interne della Sicilia non hanno tregua da giorni piove ininterrottamente una pioggia che ha battuto praticamente tutti i record mensili di agosto sarebbero 56 mm di pioggia nella giornata di ieri a Mirabella e Baccari 36 invece a Gran Michele, 27 a Ramacca e 13 a Caltagirone e Maletto sembrerebbe che però in molte località siano caduti oltre 100 mm di pioggia nella provincia di Catania i temporali sono stati impressionanti con grandi e diversi allagamenti soprattutto a Palagonia a risentirne del maltempo anche l'aeroporto di Catania con voli dirottati a Palermo i voli dirottati nella giornata di ieri sono stati nove gli spostamenti chiaramente hanno causato gravi disagi per i viaggiatori tanti poi sono stati voli in partenza e in ritardo perché è risultato a quanto difficile se non impossibile decollare con l'instabilità atmosferica registrata altri voli invece volteggiavano nelle zone di bel tempo in attesa di aggiornamenti intanto per il weekend fino al 12 agosto tutto potrebbe ritornare alla normalità con tempo in gran parte stabile con il nuovo rinforzo anticiclonico ma non si esclude qualche locale piovasco nella provincia di Catania, Enna e Ragusa Ora una breve pausa, a dopo Pug di Trapani intervengono gli architetti avanzate alcune osservazioni e suggerimenti sul piano urbanistico generale in fase di formazione Palcoscenico d'estate ad Erice continuano le iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio Vigilia di Coppa sabato sera l'esordio ufficiale di Messina e Trapani nella nuova stagione rispettivamente contro Crotone e Cavese Apriamo con l'ordine degli architetti pianificatori, passeaggisti e conservatori della provincia di Trapani che interviene con alcune osservazioni e suggerimenti sul Pug, il piano urbanistico generale in fase di formazione Ascoltiamo La nota approvata dal Consiglio nello scorso giugno e trasmessa all'amministrazione comunale di Trapani prende in esame diversi aspetti del territorio in relazione alla visione della città futura in grado di vedere quello che accadrà nei prossimi decenni in modo da non commettere gli stessi errori del passato e non stravolgere i fragili equilibri urbani si legge nel testo a firma del Presidente dell'ordine degli architetti della provincia di Trapani Giuseppina Pizzo Per l'ordine degli architetti di Trapani oggi c'è bisogno di una visione di città paesaggio da conservare e tramandare alle prossime generazioni Gli argomenti più rilevanti che vengono sollevati riguardano le ZES zone economiche speciali la strada di accesso al molo Ronciglio la lottizzazione fra la via Virgilio e le ex saline del collegio e Modica la partecipazione e l'istituzione dell'Urban Center per il processo decisionale in materia urbanistica il centro storico Nel loro documento gli architetti rinnovano la disponibilità di essere coinvolti nelle scelte dell'amministrazione comunale di Trapani per poter partecipare attivamente ai procedimenti decisionali nella consapevolezza che le scelte che si faranno saranno rivolte al bene della collettività Voltiamo pagina in un memoriale le nuove denunce dell'imprenditore Andrea Burgarella contro un sistema di potere a marcio e corrotto In un memoriale l'imprenditore Andrea Burgarella denuncia ancora una volta un sistema di potere a marcio e corrotto depistaggi e affari sporchi ma la giustizia cricca delle banche gli argomenti affrontati dal costruttore trapanese nel suo nuovo libro in pratica è il terzo capitolo di una trilogia che si avvale della collaborazione ai testi del giornalista Giacomo Di Girolamo Memoriale non è solo un libro è un grave spietato sincero atto d'accusa Bulgarella forte della sua esperienza di primo piano nel mondo imprenditoriale denuncia un sistema in cui i poteri forti le banche e la mala giustizia hanno truccato non solo una partita ma un intero campionato Bulgarella con la sua consueta schiettezza racconta fatti semplici ma sconcertanti che da Trapani al resto d'Italia gettano luce su un sistema che sembra premiare la corruzione e punire l'onestà hanno mosso accuse infamanti su una persona ha detto l'imprenditore una persona che ha portato in alto l'immagine della città di Trapani nel mondo dell'impresa del sociale nello sport e nella cultura l'imprenditore denuncia l'indifferenza delle istituzioni e lancia un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si getta fango su un'isola caro Presidente Sergio Mattarella e la colpa è dei siciliani al vertice delle istituzioni che nulla o poco fanno per difendere la Sicilia e chi denuncia la mafia e gli sporchi affari della corruzione la colpa è anche di chi è bravo a depissare le indagini Presidente lei che è siciliano come me sa qual è il prezzo altissimo che si paga quando si denuncia la mafia il sistema clienterale la corruzione la mia unica colpa è amare la mia terra farei fine in fondo il mio dovere e oggi molti pezzi dello Stato che si sono sempre girati dall'altra parte dovrebbero semplicemente chiedere scusa a me e a tutti i siciliani onesti e ora andiamo a Real Monte in provincia di Agrigento per ammirare le bellissime immagini di mare vivo che straordinariamente immortalano un grande successo cioè la schiusa delle uova e delle tartarughe caretta caretta è stato aperto il nido di tartaruga caretta caretta segnando un importante successo nella stagione di nidificazione del 2024 la notte del 28 maggio una mamma tartaruga ha deposto 125 uova e grazie all'attenta vigilanza e alle condizioni climatiche favorevoli bene 117 tartarughine sono riuscite a nascere e a raggiungere il mare in sicurezza solo 7 uova non si sono schiuse e purtroppo una tartarughina è stata trovata morta all'interno del nido questo risultato eccezionale è stato possibile grazie all'impegno congiunto di diverse realtà Mare Amico ha voluto ringraziare i gestori del Lido Chieso che con dedizione hanno protetto il nido ed il personale della riserva di Torre Salsa del WWF che ha fornito un prezioso supporto tecnico un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo che ha raccolto i resti del nido per ulteriori analisi e dal team scientifico guidato dal professore Arculeo dell'Università di Palermo e dalla dottoressa Buschaino del CNR il 2024 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la nidificazione della caretta caretta in Sicilia con numerosi nidi segnalati lungo le coste dell'isola inclusa la provincia di Trapani questi eventi di nidificazione sono cruciali per la conservazione della specie che continua ad essere minacciata da fattori come l'inquinamento e la perdita dell'habitat la nascita delle 117 tartarughina rappresenta non solo un traguardo per la biodiversità marina ma anche un importante segnale di speranza per la conservazione delle tartarughe marine in Sicilia il lavoro di monitoraggio e protezione continua lungo tutta la costa con l'obiettivo di garantire che la caretta caretta possa continuare a nidificare con successo nelle acque siciliane negli anni a venire l'estate ricina entra nel vivo e si conferma come uno degli eventi più attesi e amati della Sicilia occidentale Erici estate 2024 si sta affermando come un evento di grande richiamo grazie a un programma che abbraccia musica letteratura arte e scienza rafforzando il ruolo del borgo medievale come centro culturale di primo piano in Sicilia tra gli appuntamenti di maggior successo spicca il festival internazionale di musica antica curato dall'associazione MEMA con esibizioni di altissimo livello che si tengono nel suggestivo chiostro dell'istituto Wigner San Francesco dove le note della musica antica creano un'atmosfera incantata che affascina sia gli appassionati che i visitatori occasionali oltre al festival musicale l'associazione Vivere Erice e l'associazione Movimento Italiano Casalinghe stanno arricchendo il calendario estivo con presentazioni di libri momenti musicali e dibattiti su temi attuali attirando un pubblico eterogeneo come ogni anno Piazza San Giuliano si è trasformata in un cinema all'aperto con l'iniziativa Agosto al Cinema offrendo proiezioni gratuite di film dai grandi classici alle nuove uscite un'altra gemma dell'estate ricina è la rassegna Magici Grappoli d'estate offerta dall'associazione Strada del Vino Erice Doc mentre tra le principali attrazioni spicca la mostra Warhol Schifano e la pop art curata da Marco Di Capo a Giordano Bruno Guerri e Pasquale Lettieri gli eventi culturali proseguiranno anche nelle prossime settimane Il 13 agosto l'Istituto Blackhead San Domenico ospiterà la 56esima sessione dei seminari internazionali sulle emergenze planetarie organizzata dalla Fondazione Ettore Majorana di Erice con accademici ed esperti da tutto il mondo per discutere le sfide globali seguirà la presentazione del progetto Erice Website Virtual Tour al Polo Museale Cordici un'iniziativa finanziata dal PNRR per valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso strumenti digitali dal 30 agosto al primo settembre il centro storico di Erice ospiterà Borgo Divino in Tour 2024 unendo la bellezza del patrimonio locale con l'eccellenza enologica del territorio Vi ricordiamo gli appuntamenti sulla nostra emittente alle ore 19.40 e replica alle ore 22.40 all'edizione serale del nostro telegiornale A dopo con lo sport Ben ritrovati con noi in studio per la pagina sportiva e la vigilia dell'esordo ufficiale di Trapani e Messina in Coppa Italia di Serie C Si scaldano i motori per il via ufficiale della stagione calcistica oggi il via dell'edizione 2024 2025 della Coppa Italia di Serie C trofeo detenuto dal Catania che lo scorso anno ha battuto il Padova in finale come anticipo delle numerose sfide del weekend Virtus Verona contro Caldiero Terme partita che aprirà il sipario sul torneo sabato sera sarà la volta delle due siciliane impegnate nel primo turno Messina e Trapani i biancoscudati affronteranno il Crotone in trasferta una partita sicuramente non semplice che definirà l'avversario del Catania al secondo turno la squadra di Mister Modica ha svolto il ritiro prestagionale alle pendici dell'Etna e ha ufficializzato nelle ultime ore l'acquisto di Martino Cominetti attaccante che ha segnato 40 gol in carriera nel campionato di Serie D il Trapani giocherà invece contro la Cavese nell'ostico Simonetta Lamberti chi avrà la meglio dovrà vedersela con la vincente tra Foggia e Monopoli i Granata hanno lavorato tanto anche in chiave calciomercato nelle ultime settimane costruendo una rosa di altissimo livello per puntare direttamente alla vittoria del campionato di Serie C e alla conseguente promozione in cadetteria l'ultimo colpo in entrata è stato Facundo Lescano attaccante acquistato dalla Triestina e che nelle ultime cinque stagioni è sempre andato in doppia cifra in quanto a realizzazioni da domani non ci saranno più incognite e si potrà vedere come le varie formazioni scenderanno in campo e proveranno a interpretare le varie gare con l'arrivo di Place la Trapani Shark ha completato il roster per la prossima Serie A un lavoro sontuoso della dirigenza della Trapani Shark ha permesso a Coach Repesha di avere il roster al completo già nella prima settimana di agosto l'arrivo di Tibor Place centro tedesco provenito dall'Efes ha completato il puzzle Robinson e Gentile si potranno alternare nel ruolo di playmaker con Rossato che in caso di necessità potrà dare un aiuto sostanziale l'ex Scafati verrà sfruttato infatti con tutta probabilità come guardia insieme a Galloway e J.D. Notei riconfermato l'unica vera alla piccola di ruolo è il capitano Marco Mollura che dividerà i minuti con Petrucelli e Repullazzi Alibegovic e gli Ebuoi 2-4 che in caso di quintetto lungo potranno anche giocare insieme con uno tra Place e Orton a fare da pivot un roster di tutto rispetto per una nepromossa che punta subito in alto l'ambizione dei siciliani è quella di vincere lo scudetto ma è chiaro che Virtus Bologna e Olimpia Milano saranno le due grandi favorite ai blocchi di partenza ma ancor mai poco e la Shark si radunerà per il ritiro a Bormio dove inizierà la preparazione e giocherà le prime amichevoli in attesa dell'inizio del campionato il prossimo 29 settembre dove sfideranno le Vunere in casa al Palace Shark A Favignala dopo sei lunghi anni di chiusura è stata riaperta la sala della battaglia delle Egadi e questa la nostra notizia per l'approfondimento di oggi la sala della battaglia delle Egadi presso l'ex stabilimento Florio di Favignana ha finalmente riaperto al pubblico inaugurata per la prima volta nel 2015 è una straordinaria area multimediale che offre ai visitatori un'esperienza immersiva unica attraverso avanzate ricostruzioni digitali suoni immagini e narrazioni i visitatori possono rivivere l'epico scontro navale del 241 a.C. che sancì la supremazia di Roma nel Mediterraneo l'evento di ieri ha visto la partecipazione di numerosi turisti che hanno potuto apprezzare le innovazioni tecnologiche e la qualità delle ricostruzioni storiche offerte dalla sala della battaglia delle Egadi nel frattempo è stato avviato anche un intervento di manutenzione della sala Torino che conserva le preziose videotestimonianze di tonnaroti e lavoratori e lavoratrici dello stabilimento offrendo uno spaccato autentico della vita e del lavoro che ha caratterizzato l'isola per decenni l'attività rientra nel piano dell'amministrazione comunale per potenziare il polo museale e la già ricca offerta culturale e turistica una riapertura che permette a Favignana di riaffermarsi come una destinazione imperdibile per gli amanti della storia e della cultura contribuendo così a rafforzare l'immagine dell'isola come uno dei geli del turismo culturale siciliano abbiamo riconsegnato al pubblico la sala multimediale con la ricostruzione della battaglia delle Egadi un progetto fortemente voluto da Sebastiano Tusa che nel corso degli anni aveva subito uno stato di abbandone e di assenza di manutenzione oggi i visitatori possono godere di una delle installazioni multimediali più belle per il carattere storico e artistico e filmografico esistente nel panorama museale siciliano così come con un'azione un lavoro e un investimento di manutenzione abbiamo ripristinato la sala Torino con gli ologrammi dei tonnaroti lavoratori e lavoratrici del vecchio stabilimento Florio ormai questo spazio è uno spazio museale ricco con la parte archeologica la parte multimediale la parte espositiva e crediamo che rappresenti la principale offerta turistica e culturale che Favignana regala ai visitatori nel periodo estivo ma anche ai cittadini che desiderano visitare e ricostruire la memoria del luogo la memoria dell'isola la memoria di quanti attraverso anche questo stabilimento Florio hanno dato un'identità al nostro territorio e di